... Proseguono gli appuntamenti di TV City con i candidati a sindaco della città di Torre del Greco in vista delle prossime amministrative. Oggi nei nostri studi il consigliere comunale Luigi Caldarola che proprio in questi giorni ha ufficializzato la sua candidatura. Come nasce questa scelta? La scelta della mia candidatura non è una scelta frutto di un'autodeterminazione ma bensì è una scelta condivisa da un gruppo, da una coalizione, da una serie di elementi nati dal confronto, dalla discussione, dalla voglia di scendere in campo di tanti giovani professionisti, cittadini, imprenditori che poi alla fine nella sintesi finale ha trovato la convergenza sul mio nome. Quindi sono onorato di essere il candidato sindaco di una coalizione così. La coalizione dei cambiamenti appunto, come immagina il cambiamento di questa città? Il cambiamento di questa città passa sicuramente da una programmazione seria. Questa città in questi anni ha vissuto dei momenti tristi. Siamo stati spesso alla ribalta della cronaca nazionale, sicuramente non di una cronaca felice e non è una questione prettamente di mancanza di risorse o di problematiche legate solo alla città in sé e nel tessuto sociale ma bensì di una cattiva amministrazione e di una cattiva programmazione perché voglio ricordare che il nostro comune è uno dei comuni virtuosi in termini economici. Abbiamo un avanzo amministrativo di 25 milioni di euro che molti forse immaginano come un punto a favore ma in realtà è un punto di cattiva amministrazione perché accumulare 25 milioni di euro nei passati 20 anni di cattiva amministrazione è probabilmente il sintomo che non c'è programmazione, non c'è una visione reale e futuristica della città. Al momento chi fa parte di questa coalizione? Il vostro è un cantiere ancora aperto? Assolutamente sì, noi abbiamo praticamente cinque liste civiche, l'unico partito che si è associato alla coalizione è Più Europa ci sono le liste civiche del cittadino, idee, identità e territori per il rilancio, noi torre e appunto Più Europa e friturre. Sono tutte liste civiche, sono tutte liste formate per lo più da giovani e da professionisti della città ci sono anche persone già appartenenti all'amministrazione comunale, nell'opposizione, ci sono i consiglieri Santa Borriello e Vincenzo Salerno, ci sono io. È una coalizione veramente fatta, nata dalla voglia di poter cambiare le cose in città, è nata dalla voglia di condividere un percorso che non sia frutto di imposizioni che vengono dall'alto o comunque di autodeterminazioni ma sia voglia di una condivisione per portare finalmente Torre del Greco ai livelli che merita. Quali sono i vostri punti programmatici, gli obiettivi e le sfide? Sicuramente nei punti programmatici c'è un'attenzione particolare alla questione ambientale, alla questione del decoro urbano cittadino perché probabilmente ci siamo accorti e ci accorgiamo che è la cosa che i cittadini sentono più vicina quindi sicuramente un piano rifiuti adeguato, non per forza stravolto da quello dell'attuale amministrazione ma con dei correttivi che sono necessari per permettere il corretto funzionamento basti pensare che in questo piano industriale sono previste 5 isole ecologiche o un centro di raccolta in realtà non esiste nemmeno uno, quindi probabilmente ci sono delle falle che vanno corrette e io credo che questa voglia di cambiamento debba passare dalle pratiche di buona amministrazione e quindi guardare a quei modelli in altre città, non per forza del nord, non per forza lontane che hanno perseguito delle pratiche di buona amministrazione basti pensare, restando nel tema ambientale, che nei comuni vicinori come quello di Portici in cui il cittadino è presente nell'amministrazione c'è una raccolta differenziata che funziona perché hanno affidato tempo fa alla gestione a una dittinaus, quindi sicuramente questo potrebbe essere uno dei modelli di cui prendiamo riferimento così come a Bacoli il sindaco Giosi della Ragione che ci ha dato la possibilità, anzi ci ha aiutato e ci sta aiutando nella crescita di questo percorso, ha stravolto la città di Bacoli l'ha portata ad essere una delle più belle città della provincia di Napoli puntando sulle eccellenze della città, sul turismo e sulla voglia di cambiamento Guardando allo scenario politico e agli schieramenti che si stanno delineando e agli altri candidati, lei che ne pensa? Io tendo a guardare in casa nostra, io penso che la vera forza di questa coalizione sia l'entusiasmo ci hanno definito qualche amico, gli addetti ai lavori hanno detto che noi siamo la coalizione più romantica oggi nel giorno di San Valentino possiamo dire che noi festeggiamo sicuramente l'innamoramento la nostra città lo faremo con un'iniziativa che sarà a breve sui social e sarà presente in città e quindi noi siamo non solo la coalizione più romantica così definita ma siamo a nostro avviso la coalizione vincente perché siamo quelli che stanno mettendo la faccia si stanno mettendo in gioco per far sì che finalmente Torre del Greco abbia un'amministrazione all'altezza non parliamo degli altri, parliamo di quello che vogliamo fare e di quello che siamo noi siamo sicuramente innamorati di Torre del Greco e lo dimostreremo con i fatti e con le azioni che ci permetteranno poi, speriamo, di vincere le elezioni del 2023